Solo 180 minuti al termine della regular season in Serie D, ma ancora tanti verdetti da scrivere. Ad oggi si ha la certezza solo del primo e dell'ultimo posto, con il Cerignola in Serie C e la Virtus Matino in eccellenza. Francavilla e Bitonto sono aritmeticamente certe del podio, resta da capire a chi spetterà la medaglia d'argento e chi dovrà accontentarsi del gradino più basso del podio. Il Fasano è ad un passo dal blindare il quarto posto e di conseguenza anche un posto ai play-off, mentre per il quinto è guerra aperta. L'ultimo slot verde verrà conteso fino alla fine da Casertana, Gravina e Nocerina, che ad oggi vantano rispettivamente 54, 53 e 52 punti. I gialloblu dovranno ritrovare il proprio miglior status di forma se vorranno tagliare un traguardo per certi versi impensabili alla vigilia di questo campionato. La formazione, guidata da Mr. Suma, non vince da un mese e nelle ultime nove giornate è arrivato a un solo successo. In trasferta i tre punti mancano dalla prima metà di febbraio. Domenica in casa del Nola si proverà di invertire questo trend. Salvezza diretta quasi aritmeticamente raggiunta per Brindisi e Molfetta, a caccia degli ultimi punti che saranno sinonimo di tranquillità. Un po' di agitazione in più resta fra le file di Casarano e Altamura, che galleggiano a più due sulla zona play-out, dove invece sono ancora incastrati Nardò, Lavello e Rotonda, che ancora sperano di tirarsi fuori dai guai. Apparentemente condannato, ma ancora vivo il Biceglie, che con un impeto d'orgoglio ha strappato tre punti con il Molfetta, accorciando sul San Giorgio, riaprendo il discorso salvezza. Ora i campani hanno solo due punti in più rispetto ai nerazzurro stellati, che con Altamura e Nola si giocheranno la possibilità di salvarsi passando dai play-out. Grazie a tutti.